Bentornati su MyFootballGersy. Oggi vediamo finalmente e a grande richiesta la prima maglia del Manchester United in edizione player, la maglia ovviamente della prossima stagione. Grazie per la visione! La maglia è stupenda, nella mia classifica prende 4 stelle, non il massimo ma la maglia del Manchester United secondo me è una maglia che dovete avere. Il costo lo vedete qui sopra? L'avete visto? Molto basso, ormai mi stanco quasi di ripetere sempre le stesse cose, fate voi le vostre valutazioni. Vi ricordo che per ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere quale bellissime offerte il sito prepara per voi. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però ricordatevi di iscrivervi al canale, spingete quel pulsante che trovate qui sotto. A voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi sempre nuove maglie. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie per la visione! Grazie per la visione!